Penso che sia una bella avventura se finisce bene e quindi sarò contenta di questo viaggio. Se invece finirà male, penso che mio marito dovrebbe scappare, ma non penso che esista un posto sicuro per lui, né sulla terra, né in cielo, nelle galassie, nell'universo, perché io prima o poi lo raggiungo e lo distruggo. Mi sono spiegata. Come una promessa che mi guia a una vela. Desfallece in mis ojos, implorando reposo, todo il dia ti busco, esquivando peligros. Determinare mi vita, per sapere il cammino. Son mis pies los que te siguen, van guiados de una vela, que iluminan un sendero, donde tu siempre me esperas. He jurato no perdere te, he de mantenerlo en alto, aunque pierda esta vida, mi alma seguirà in mis manos. Eres come un refugio. Eres come un refugio, che mi serve di escudo, eres una esperanza, no defraudas en nada. Que me guie la vela, que me aclare la vista, solo busco tu apoyo, para vivir esta vida. Eres come un refugio. Eres come un refugio. Son mis pies los que te siguen, van guiados de una vela, que iluminano un sendero, donde tuppo... dopo bisogna spiegargli che lo teneremo in basso perché sennò volava tutto fuori bene i cuochi i cuochi, le cuoche le cuoche le cuoche, la cuoca io il cuoricino eh mani d'oro e lei mani d'oro non hai i capelli d'oro, hai le mani d'oro lo skipper Carlo e Giorgio grandi facciamo le stelle stasera avete studiato per stanotte? eh più o meno abbiamo pescato o meglio sono venuti a bordo loro guarda guarda potete lavorare che adriati? la mia salta a dentro hai paura eh la vita di bordo no, non voglio fare un piccidabile al ministero della gioventù della cosa della cosa di grazie a tutti la famosa vita di bordo la famosa vita di bordo a 45 gradi inizio a fare pasta e fagioli se ci vedi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.